benvenuti potete ordinare ed oddio can devi mangiare se vuoi rimanere in forma mi prendo un supplì dai grassone mi prendo anch'io un supplì porco dio allora volevo una bufa con impasto normale poi una pizza rossa con un venere integrale e poi una pizza golosa integrale però si può fare rossa poi un supplì classico e un supplì all'anduja anzi due classici e uno all'anduja